È dedicato di mettere in una visione collettiva questo luogo, partendo dalla danza, che è la nostra storia, il premio di danza più antico del mondo, legato ai miti di Massim, ai Mureyev, e ai magnifici danzatori che abbiamo anche qui stasera, che rappresentano la continuità. E poi il premio Comunitare l'Archeologia, che per noi vuole essere dedicato a questo straordinario luogo, che è la Villa Romana di Positano, che vuole essere un Oscar dei comunicatori della teologia, dei beni culturali e dell'arte. Perché l'arte c'è, la si vede, la si abbraccia e la si sente, però bisogna anche saperla comunicare. E stasera abbiamo due premi straordinari, i primi due premi vengono battetati nel nome di due grandi comunicatori, Paolo Conti, del Corriere della Sera, Fabio Viola, un grande esperto di gamification, e Jackie Cufrelle, che è la responsabile dell'arte del Financial Times. E siamo in clima assolutamente internazionale, però io ho qui un etuale, una giovane stella del San Carlo, Anna Chiara, dimmi che cosa, Anna Chiara Mirante, che cosa ha significato per te stamattina andare a Galli e pensare che lì ci sono stati i Massin e il Mureye? Noi siamo rimasti tutti a stare fatti dalla bellezza del luogo, e più che altro ci ha fatto molto piacere vedere che nel tempo di Stisola è rimasta, appunto come l'hanno creata questi grandi artisti, l'hanno mantenuta nel tempo così come è nata. Per me è stato emozionante, entrare lì nella sua casa, abbiamo vissuto questi artisti da Massin, si respira la danza, si respira l'arte, si respira l'arte, 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 in quel tempo. Abbiamo un giovanissimo danzatore, Guillaume Diouf, che viene dalla Francia ed è etuale dell'Opera di Parigi, il primo ballerino di colore, etuale dell'Opera di Parigi. Quindi il tuo esempio, che cosa significa per i giovani ballerini? I'm sorry I don't speak today, I'm very very happy and honored to be here, it's a very beautiful place and we can feel that there are a lot of creation and art here in Pestano, so I'm really really happy and blessed to be here. Quindi solo un grande ringraziamento di essere qui in questo luogo meraviglioso e di partecipare a questa grande festa della danza, ma questo lo posso dire io, il suo esempio è importante per tanti giovani ballerini. Da Positano è tutto, vi restituisco la linea.